...cobbinato! ...cobbinato! Tordo caricato! Lancio una granata fumogena! Ricarico! Rimangono 15 secondi! Disinnesco bomba avviato! ...indicatore! Rimane un nemico! ...e che tripla! One tap in testa! BAM! Poi esce! Vigil fatto! Flank! Andato! L'hanno piccato! L'hanno piccato! Aspettate! ...dicatore! ...se hai fatto le chiamate è easy! ... 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 oh mio dio ciao youtube cazzo grandi madò infatti sembrava morto detto che cazzo è questo qua di per terra poi mi sono girato comunque ho fatto una bella azione cazzo gg o sa got bo a Rado a Rado o o Grazie. Ma sei matto? Lo so, non lo sapevo che stavi. 15 secondi. Un'ultimo neanche, un'imattito. Madonna, che cazzo le azioni abbiamo fatti e te? Siamo usciti dalla bomba, siamo usciti dalla bomba. Si ma perché la mia... Mamma mia, sto più tardata. Sto... Saks, forse in Atrio sta gridlock. Atrio gridlock. Open office... Ah, niente. Blackbeard sopra, ping. Ah, niente. Blackbeard sopra, ping. Io sono in bomba, eh. Come sta in bomba? Sono in bomba. Sono in bomba. Ho fatto 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 un wallbang, ho fatto un wallbang. Sono in bomba. Sto arrivando sul divano. Sto arrivando. Ho fatto fatto un wallbang, bandit. Ho fatto fatto un wallbang, bandit. Go, plant. Go, plant. Thermite. Go. Go. Oh, my god. You cringe. Vai, nasce ancora? In fondo, in fondo, in fondo, in fondo, a corridoio. Thermite. Thermite, please plant. Dai. Che azione, ragazzi, che ho fatto? Madonna. Dai. Ultimo nemico rimasto. Dietro. Squadra d'attacco eliminata. Siamo completata. Easy. Ah, c'è Spunkin. Bella. Eh, ma Sax fa cagare, ragazzi. Quindi, essendo uno sfigato di merda... Povero Sax. Gliatrice. 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 Okay, inside. Sì, ok Ultimo nemico rimasto Chi è l'ultimo? No, 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 no No, no, no Sì, no, no Quadro d'attacco eliminata, missione completata Non so dove lo Jäger Dove lo Jäger? Sopra dove? Con l'altra scala Non so dove è No, no, no Prendi pass 15 secondi 10 secondi Sta scappando il pezzo di mezzo Della, cazzo 1 8 Saks mi che è Argento 1 in realtà Ho 2, cioè Eh raga, non è una Cento È solo un bar Oh, io entro e faccio 1.000 2 2 1 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 8 10 10 10 12 12 12 asce su scala c'è qua sul territorio non so se è aperto così si fanno le kill ma no perché non fate 3 ma perché si vede come faccio il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona scala cambio caricatore vittoria alla difesa gg ciao easy kill bagno chi lo controlla bagno chi lo guarda aspetta aspetta vai c'è l'altra parte devo scendere tra la piazza no no c'è il diffuser c'è il diffuser oh c'è il diffuser ho fatto maverick da me poca vita dove è qua da me sotto o sopra non so da me bagno bagno non morire perché ho pochissima vita ceros ho pochissima vita ho io il diffuser ceros ho io il diffuser ti prego vieni qua da me gioca di squadra ma vai fatto 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 sei ancora la eh sono uscito sono messo in andata non ti preoccupare ho il diffuser sul ping ti sto dicendo non vedi da te dove eccomi comunque l'ho preso un po' il termine dovrebbe essere la metà verità per meno nico pronto a fare per me fatta zofia eh attenti al plan l'ultimo nemico rimasto fatto toucher squadra di attacco eliminata missione completata l'ultimo nemico rimasto hai trovato la bomba fa roca faccio un il lo v roca am rimangono quindici secondi nob no nob succhiatami il cazzo va col giovani di merda sax lube